Leonardo Silva Revisore Vi ricorderete qualche settimana fa, mi sembra la settimana scorsa, molti giornali del mondo sono usciti con grandi titoli «Cambiamento climatico, siamo prossimi ad un punto di non ritorno». Io vivo in India e anche i giornali indiani riportavano questa notizia. Mi è sembrata un'introduzione ideale a quello di cui volevo parlare oggi, che appunto riguarda i cinque grandi problemi globali di questo pianeta, che sono appunto l'acqua, la fame e la malnutrizione, la povertà, la biodiversità e appunto il cambiamento climatico. Si parla di questi problemi come se fossero cose indipendenti. In realtà a me piace pensare che sono tutti in qualche modo collegati e che il problema dei semi è al centro di questi problemi. Il parlare di semi significa fondamentalmente parlare di salute. C'è stato qualche accenno già quest'oggi, perché tutto il cibo che noi mangiamo di fatto direttamente o indirettamente proviene da semi e credo che tutti siamo d'accordo che la nostra salute dipende da ciò che mangiamo. Particolarmente oggi, dopo che è stato dimostrato che molte delle malattie moderne in realtà derivano dal cibo. Tornando al cambiamento climatico, una cosa che non si dice, o si dice molto raramente, è che noi in realtà non sappiamo di cosa parliamo. Perché nessuno oggi è in grado di dirvi quanto più caldo farà e quanto meno pioverà a Como tra 20 anni. Associato al problema del cambiamento climatico c'è quello della biodiversità, appunto. E qui c'è una grande contraddizione nella scienza moderna, perché da una parte, se voi sfogliate i numeri delle riviste più importanti tipo Science & Nature, quasi ogni settimana, sicuramente ogni mese, ci viene detto che la biodiversità è la chiave per la sicurezza alimentare. E dall'altra, un'altra scienza, il miglioramento genetico che quegli alimenti produce, è andata in maniera esasperata negli ultimi 20-30 anni verso l'uniformità in direzione esattamente opposta. Pensate che oggi quello che voi comprate al mercato, i cavolfiori, le zucchine, i pomodori, i peperoni, tutta quella roba lì, per essere legalmente commercializzata quelle varietà devono essere state iscritte ad un registro che si chiama appunto registro delle varietà e per essere iscritte a quel registro devono essere uniformi, stabili e riconoscibili. Immagino che la contraddizione tra uniformità e stabilità e la necessità di adattarsi ai cambiamenti climatici sia palese. Contemporaneamente, sempre negli ultimi 20-30 anni, forse 40, si è assistito gradualmente ad un consolidamento di un vero e proprio monopolio nel mercato mondiale dei semi. Un mercato che vale miliardi di dollari e che oggi per il 65% circa è controllato da quattro grosse corporazioni internazionali. Che cosa significa controllo del seme? Significa che quando l'agricoltore va al mercato a comprare i semi per seminare, non ha grandissime scelte. Negli Stati Uniti oggi è pressoché impossibile, io ho appena scommesso 50 mila euro, è pressoché impossibile trovare seme di mais o seme di soia che non sia geneticamente modificato. Questa ridotta possibilità di scelte da parte dell'agricoltore su ciò che può seminare, si ripercuote sulla diversità di ciò che lui coltiva e si ripercuote sulla diversità del cibo che noi mangiamo. E questo appunto è associato a tutta una serie di malattie e ci fa pensare se siamo veramente noi a decidere che cosa mangiamo. Accanto a questo monopolio del mercato dei semi si è sviluppato un monopolio nel mercato dei pesticidi a cui appunto si è fatto cenno anche questa mattina. I pesticidi sono delle cose abbastanza interessanti perché i medici ci dicono che tra le dodici sostanze chimiche più pericolose al mondo, nove sono pesticidi. E alcune di queste corporazioni internazionali che vendono semi vendono anche pesticidi. Beh, allora diventa logico chiedersi ma se io vendo semi e pesticidi perché dovrei vendere seme che danno piante che di pesticidi non hanno bisogno. E tutto ciò probabilmente finisce in quel piatto. Come siamo arrivati a questo punto? Beh, l'evoluzione del miglioramento genetico di quella scienza a cui accennavo prima ci può aiutare a capire. Il primo speaker di questa mattina parlava appunto dell'uomo del Neolitico 10-12 mila anni fa che a cominciare dalla mezzaluna fertile quell'arco che va da Giordania, Palestina, Israele, Siria, Libano il sud della Turchia e poi giù giù verso l'Iraq lì è cominciata l'agricoltura. Io ho lavorato per 30 anni in un istituto vicino ad Aleppo e i semi di orzo più vecchi sono stati trovati in delle giare in un villaggio a circa 100 chilometri da Aleppo oggi sommerso dalle acque delle Eufrate. Beh, lì l'uomo ha addomesticato perché anche le piante possono essere addomesticate non con i metodi con cui si addomesticano gli animali ma semplicemente le piante selvatiche lasciano cadere i semi a terra le piante diventano domesticate quando per mutazioni spontanee trattengono i semi nella spiga e la donna probabilmente del Neolitico ha afferrato immediatamente l'importanza di queste piante strane che non lasciavano cadere i semi a terra. E lì in quella zona appunto nella mezzaluna fertile questo è successo per il frumento, per l'orzo, per la lenticchia, per il cece, per il fico, per il pistacchio e altre specie. Questo poi è successo in altre parti del mondo per altre specie. Poi cosa è successo? Che a partire dal 9 mila anni fa questa gente ha cominciato a migrare e la Turchia, la Grecia, poi i Balcani sono entrati in Italia dalla frontiera est circa 7 mila anni fa e a un certo punto si fermavano. E questo lavoro di miglioramento delle culture è continuato per circa 9 mila anni e ancora oggi, io l'ho visto in Nepal, l'ho visto nel nord dell'India, prima di raccogliere si va al campo, si scelgono le piante più belle, quel seme viene conservato in un angolo fresco e asciutto della casa, quel seme verrà riseminato l'anno successivo, il resto si raccoglie, si mangia o si darà da mangiare agli animali. Ora immaginatevi questo lavoro fatto da migliaia di agricoltori in tantissimi posti del mondo, con tante culture diverse, ognuno ovviamente selezionava per quello che noi chiamiamo adattamento specifico, cioè selezionava le piante belle in quel particolare terreno, con quel tipo di pratiche culturali e per l'uso che faceva di quella cultura. Quando voi sentite parlare di vecchie varietà, i cereali antichi, è da questo lavoro di millenni che vengono. Poi, con la riscoperta delle leggi di Mendel poco più di cento anni fa, il miglioramento genetico ha avuto un grosso cambiamento, nel senso che tutto ciò che fino a quel punto era stato fatto da tantissime persone in tantissimi posti del mondo, ha cominciato ad essere fatto da relativamente poche persone, i ricercatori, in relativamente pochi posti, le stazioni di ricerca. E c'è stato un grosso cambiamento di filosofia della ricerca, perché mentre gli agricoltori selezionavano per l'adattamento specifico, il ricercatore ovviamente non poteva fare varietà per la stazione sperimentale, le doveva fare per il mondo esterno. E quindi cercava di selezionare varietà che andassero bene per quante più persone possibili. Questo ovviamente ha determinato la scomparsa in parte delle vecchie varietà, ha prodotto una grande uniformità e soprattutto è una filosofia che ha la base della cosiddetta agricoltura industriale che non può fare a meno della chimica, perché queste varietà ovviamente bene dappertutto non potevano andare e allora laddove non andavano bene si modificava l'ambiente con cimi, antiparassitari, pesticidi, acqua di irrigazione, in modo che anche quell'ambiente poteva andare bene per quella varietà. Questo per inciso andava bene anche alle industrie sementiere che nel frattempo stanno sorgendo, perché per l'industria sementiera è molto più conveniente vendere tanto seme di poche varietà che poco seme di tantissime varietà diverse. Io ho cercato di ribaltare un po' tutto questo con un metodo di miglioramento genetico che pur utilizzando la stessa identica scienza, anzi tutti i requisiti della scienza più moderna, riportava il miglioramento genetico nelle mani degli agricoltori. Questo modello si chiama miglioramento genetico partecipativo, non sono soltanto io a farlo e fondamentalmente introduce tre cambiamenti. Prima cosa, tutto il lavoro si fa nei campi degli agricoltori. Gli agricoltori partecipano a tutte le decisioni. Io quando arrivo in un posto in cui non sono mai stato, la prima domanda che faccio agli agricoltori è quali sono i vostri problemi? E la terza differenza è che questo modello si può applicare in tantissimi villaggi diversi, soltanto a funzione di quante risorse voi avete. il pallino giallo è dove io ho lavorato per 30 anni, quelli blu sono le stazioni sperimentali del Ministero dell'Agricoltura siriano e i rossi sono i villaggi. Ecco qui il punto chiave è che ogni villaggio diventa una unità di selezione indipendente. Cioè lì si seleziona ciò che va bene in quel villaggio, selezionano uomini e donne, il metodo ovviamente è molto inclusivo, e si fanno varietà specificatamente adatte a quel particolare luogo, a quel particolare modo di coltivare. Questo modello io l'ho cominciato in Siria nel 1995 e poi gradualmente è stato implementato in Marocco, in Tunisia, Algeria, Egitto, Etiopia, Eritrea, Yemen, Iran. E può arrivare e può essere utilizzato in posti dove il miglioramento genetico cosiddetto convenzionale non è mai arrivato. Questo è un progetto su orzo e lenticchia nelle montagne dello Yemen. Tutta l'agricoltura dello Yemen è praticamente in queste terrazze costruite duemila anni fa e che non sono mai state raggiunte appunto dalla scienza convenzionale. Poi all'incirca intorno al 2007-2008 ci siamo accorti che questo modello aveva un punto debole. E il punto debole era proprio la collaborazione necessaria di una istituzione. Perché le istituzioni nei confronti di questo modello che di fatto riportava molto potere nelle mani degli agricoltori, beh a molti governi questa cosa non andava giù. Per cui nel 2008 io ho rispolverato una vecchia idea di un ricercatore americano che si chiama miglioramento genetico evolutivo che consiste nel fare dei grandi miscugli. Questo ne vedete uno coltivato in Sicilia. Io questa cosa l'ho cominciata a fare in Siria nel 2008, poi noi siamo venuti via nel 2011. e questo è un miscuglio, vi prego di credermi sulla parola, di duemila tipi diversi di frumento tenero, il frumento con cui si fa il pane. Che cosa succede? Che in questo miscuglio avvengono sempre un po' di incroci tra queste piante per cui il seme che voi raccogliete non è mai geneticamente identico a quello che avete seminato. Cioè la popolazione gradualmente si evolve. E si evolve in che direzione? Nella direzione di diventare sempre più adatta, adattata a quel particolare ambiente, a quel particolare modo di coltivare, quindi si adatta bene all'agricoltura biologica e biodinamica. e soprattutto, se vi ricordate quello che ho detto all'inizio, sarà adattata al clima che ci sarà tra vent'anni, senza sapere oggi quanto più caldo farà e quanto meno pioverà, perché ha tutto il tempo per, appunto, evolversi. Questa idea in questo momento è attuata in Giordania, Etiopia, in Iran. queste popolazioni stanno diffondendo dappertutto e nel 2009-2010 sono arrivate anche in Italia. Sono tre popolazioni, uno di frumento duro per il pane, uno di frumento tenero per la pasta e uno di orzo. Sono in questo momento coltivate in circa 14-15 regioni italiane. Gli agricoltori iraniani hanno fatto una scoperta interessante, che adesso stiamo attuando anche in Italia, e cioè hanno fatto il pane direttamente con la farina di questi miscugli. E hanno scoperto che dopo sei mesi che questo pane stava in commercio, non solo era molto apprezzato perché aveva un profumo e un aroma straordinari, ma questi panettieri hanno cominciato a ricevere telefonate dai clienti che gli dicevano, ma che cosa ci avete messo in quel pane? C'è perché? Perché in questo villaggio tutti coloro che soffrivano di intolleranze da quando hanno cominciato a mangiare quel pane si sentono molto meglio. Noi stiamo facendo ancora questa esperienza in Italia, particolarmente nelle Marche dove io in genere vado quando vengo in Italia, e quindi stiamo dimostrando che con questi miscugli non soltanto abbiamo una tecnologia per adattare le culture in modo dinamico e poco costoso ai cambiamenti climatici, non solo si riporta la biodiversità dei campi, perché ovviamente queste popolazioni si evolvono in modo diverso nei diversi posti, non solo si riporta il controllo dei semi nelle mani degli agricoltori, ma si produce cibo che è molto più diverso e, come ho detto prima, diversità di cibo significa maggiore salute. Grazie.